Ciao a tutti i dreamersi, sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me. Oggi entreremo nel castello del dragone, del dragone cinese, e faremo degli scanni. Dan dan dan. Allora, se siete curiosi quindi di vedere questo video, se volete altri video del genere, io nel frattempo reclamo il mio big gift. Voi lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale, tappando la campanellina. Mi trovate su Instagram e TikTok, su Instagram e TikTok sto pubblicando tutti i giorni, quindi mi conviene andarmi a seguire. Allora, oggi ho tre stelline, ragazzi, mancano tre stelline per arrivare alla trombetta. 70 giorni belli puliti puliti, e volevo dire alla trombetta, non alla stellina, non lo so, non so nemmeno più che cosa sto dicendo. E siamo sempre sempre più vicini al nostro Golden Egg. Allora, nei giorni scorsi, vi dico la verità, non ho per niente giocato, devo confessarvi questa cosa. Quindi non ho fatto né scambi né nulla, ho dato giusto il regalo a Joseph che avete visto nel video di ieri. Se non avete visto il video ieri, andate a seguire, andate a vederlo, che lo lascio nelle schede qui in alto. Allora, RoboDog, RoboDogino, eccolo qui. E andiamo, nel frattempo beviamo un sorso dalla nostra tazza natalizia, che adoro. Se mi seguite, lo sapete, amo il Natale. Se non lo sapete, ve lo sto dicendo, amo il Natale, è un'ossessione per il Natale. Confesso. Allora, andiamo a mettere la mia bancarella, come al solito, bancarella della limonata, perché ci piace così, configuriamo, set price, set. Allora, ho perso il RoboDog, vero, per la strada? Ho perso il RoboDog. Però c'è un fatto che oggi spiedo di essere in un server più povero. Vabbè, proviamo a iniziare a fare qualche trade. Allora, aspettate. Food, voglio provare a scambiare soltanto miele. Vediamo che dice, 4 miele, 5 miele. Cosa mi dai? Allora, abbiamo MiriamHolly12, che ci invia una richiesta di amicizia. Amicizia, me l'ho detto, ma ti ringrazio, sei un tesoro, ma non posso accettarle. Allora, lui vuole... No, decliniamo, va bene. Poi, vediamo un po'. Tu hai un gatto? Non posso accettare richieste semplicemente perché ho troppe richieste di amicizia. Ho più di 8000 richieste di amicizia, quindi per questo non posso accettarle. Allora, di quanto riguarda pet, non vedo nulla, proprio nulla di interessante. Poi, andiamo a vedere se c'è qualche vestito nuovo per i nostri pet. Ok, qualcuno ci manda una richiesta. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, per quanto riguarda vestiti, non vedo nulla di nuovo, è interessante. Allora, c'è il koala che ha pagamento. No, c'è il koala che non si trova più. Poi ci sono Tasmanian Tiger e non mi piacciono. Le varrebbe anche la pena, forse, ma no. EmmaLat35, sei un tesoro. La tua cipollina, vai! It's Fraginal, pure ci manda. Fra-riginal. It's Fraginal. Uh, Banana Car. Settimento. No, ha declinato. Ciao! Come ti chiami? EmmaLat. Ok. Uh, tu mi sembri... Miriam Holly, vediamo se vado a metterti del miele. Uh, Dingo. Anche se il dingo non si trova più, mi rendo costretta a declinare. Anche la lotta X11 mi manda la richiesta di amicizia. Il nostro proprio dog vuole mangiare, poi... Aspettate, aspettate, ok. Ecco qui, il nostro proprio dog vuole mangiare. Sto cercando di continuare a farlo crescere perché comunque voglio ottenere, voglio fare in modo di farlo neon. Ho risposto nella chat a tutti dicendo che stavo registrando e quindi per questo non potevo giocare con loro. Allora, facciamo così. Uh, allora, Rodolfo. Rodolfo mi piace, ce l'ho già. Tu hai il pinguino raid? Vediamo un po'. Se ti metto questi. Te ne metto cinque. Accettato, pinguino raid per cinque mieli. Declina, mi dispiace. Allora, Rodolfo. Rodolfo. Sto facendo con Rodolfo. Allora, andiamo. Ti metto tanti mieli. Tu che mi metti? Ti metto sei mieli per Rodolfo raid. Che dici? Rodolfo non si trova più e tra l'altro è l'arena. È troppo bella e mi piace troppo. Io vado anche su accetta. Ha declinato. Allora, hai bisogno di una doccia? Allora, mamma mia. Questi sono tutti i fan che stanno mandando richieste di amicizia. Li portiamo a casa perché il mio pet vuole fare anche la doccia. Utilizza la porta. No, aspettate. Qua c'è un casino immenso perché tutti quanti stanno andando a casa ma non mi fanno usare la porta. Ok, ok. Ma lei è fan perché se è fan è un grande, grande problema. Drabi Roblox 008. Ho un grandissimo dubbio se sia una fan o meno perché se è una fan mi sento, non lo so. Però qui nella chat non sta scrivendo. Quindi lei ha declinato, vabbè. Cioè, purtroppo quando incontro i fan è sempre strano perché ho sempre paura che loro vogliano regalarmi dei pet. Ho scritto che non posso, sto registrando e quindi non posso giocare con loro. Scusatemi. Vabbè, poi mi continuano a chiedere pet. Please pet ride. Please pet ride. È vero tanti pet, ma non posso regalarveli ragazzi perché se lo regalo a lei il pet poi dovrei regalarlo a tutti i fan che me lo chiedono. Allora, quindi vi saluto tutti. Aspettate. Se restano ferme, le risaluto. Allora, abbiamo It's Fra Original, Kamisk 00, La Lotta per 11, Emma Lat e poi abbiamo anche Fiore VGF. Quindi vi saluto tutte ragazze, vi voglio un mondo di bene. Grazie per seguirmi tutti i giorni. Grazie, grazie, grazie. Sono sempre felicissima. Ho perso il tuo... Io sono sempre felicissima di incontrarvi. Sempre, 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 sempre. Però quando sto registrando non posso darvi tanta attenzione. Questa cosa mi dispiace un sacco. Aiuto! Ok. Mi dispiace un sacco non potervi dedicare tanto tempo. Allora, facciamo rifare un livello a quel nostro pet e poi andiamo a cercare di entrare nel... Nel castello. Tantissimi, tantissimi di voi mi avete suggerito questo metodo. Vediamo cosa si trova e soprattutto se mi funziona. Perché c'è questo piccolo problema che a me queste cose non funzionano mai. Allora, ho detto alle ragazze che se sono ancora a casa mia possono prendere tutto il cibo che vogliono. Non vi preoccupate. Casa mia è fatta apposta per questo. Perché quando vi incontro, se mi trovate nella lobby, se vedete casa mia, magari non mi avete incontrato ma entrate in casa mia, siete liberi di prendere tutto il cibo che volete. È una casa fatta per i fan, più che altro. Allora, questo è il pattinaggio sul ghiaccio. Mi piace un botto comunque. È una delle mie cose preferite. Va bene. Allora, tu hai un dodo. Tu hai un bellissimo dodo. Se io ti metto food, honey, uno, due, tre, quattro mieli per un dodo. Mieli. Quattro miele. Quattro miele. Oddio, ho un dubbio esistenziale. Ho un dubbio esistenziale. Il plurale di miele. Qual è? Il miele? Oh, mamma. No, vabbè, io detesto queste cose. Miele, plurale. I mieli. I mieli, ok. È così usata, è così poco usata come cosa che... Uh, mi piace questo. Se ti do due miele per il trolley, perché mi piace. Non ce l'ho e mi piace. Non l'ho mai visto. Ti becchi due cose, eh? Ha detto di sì. In realtà non so nemmeno se sto facendo bene, me lo dovreste far sapere voi. Però non ce l'ho questo e mi piace. Neon red scooter. Cioè sia... No, no, qui non lo vedo. Fatemi sapere se ho fatto bene. Mi piace troppo. Mi piace. Non so che cos'è, ma mi piace. Franci, mi puoi dare un pet. Ragazzi, presto comunque, in questo mese, probabilmente, Emma sta scrivendo in chat che vuole regalarmi qualcosa. Davvero, Emma, non regalarmi nulla. Non regalatemi tu. Niente. Davvero. Conservate le vostre cose per voi. Poi, tra l'altro, lo stavo dicendo, non vi preoccupate, presto ci sarà un nuovo giveaway. Appena annunceranno i pet di Natale, ci sarà il giveaway. E va bene. Beatrice 3292 mi ha regalato un pet. Aspettate, glielo ridiamo. Ho provato a darle il miele. Ok, accetta, vai. Ti do il miele e ti metto anche di nuovo il pinguino perché sei stata gentilissima. Quindi le ho ridato il pet e le sto regalando anche un barattolino di miele perché comunque è stata dolcissima. Io stavo facendo qualcosa. Sì, stavo facendo crescere il mio pet. Ok. Ed è diventato Junior. Quindi adesso molliamolo qui e proviamo a entrare nel castello. Nel castello castelloso. Che è di là. Non trovavo il castello. Una cosa di questa grandezza non trovavo il castello. Allora, siamo qui. Siamo nel castello. Siamo al castello castelloso. E abbiamo quindi il nostro drago fantastico. Quindi se proviamo ad entrare, veniamo sbalzati via. The Frosty Fury non ti lascerà passare. Quindi quello che bisogna fare è prendere una cosa, una pistola pistolosa. Questa qui non mi piace. Qui voglio una bella pistola. Prendiamo questa qui ghiacciata. Ok, così ci troviamo. Ok, sono pronta. Vado. Tiro. Corro. Ce l'ho fatta. Ok. La furia non ti lascerà passare il gate. Peccato che l'ho fatto. Poi dobbiamo prendere un pet fly. Quindi prendiamo il nostro Viserion. Così restiamo in tema. Carrozzino. Voglio il... Dov'è il carrozzino? Eccolo qui. Il mio carrozzino di Halloween. Che resterà il più bello. Ok, fermi tutti. Fermi tutti. No. Ah! Ok, non c'è stato bisogno di fare niente. Fai fly così restiamo comunque da questo lato. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Non c'è niente da questo lato, ragazzi. Allora, scende Stop Ride. Viserion è rimasto così. Ok, rientrato nel palo. Se provassi ad uscire ulteriormente dalla mappa... No, mi fa fare niente. Aspettate. Proviamo a vedere se riusciamo a infizzarci da qualche altra parte. Non ci... Non ci... Non... Il carrozzino non si infizza. Non si infila da nessuna parte. Da nessuna parte. Aspetta. Era successo... Aspetta. Veniamo rispazzati all'intietro quando ci provo. Aspetta. Fermi. Fermi. Piano piano. Zit zit zit. Voglio capire come fare per... Far... Aspetta. Proviamo così se faccio fly. Restiamo qui. Ok, quindi, ragazzi. Ho trepassato il cancello. Siamo entrati nel castello. E... Siamo entrati un po' presto. C'è il piccolo problema che siamo entrati un po' presto. E quindi non hanno arredato ancora. Non hanno finito di restaurare la casa. Non hanno arredato. Siamo un po' in anticipo. Non vedo l'ora di scoprire effettivamente cosa poi un giorno ci sarà dietro questa porta. E se anche voi, ragazzi, non vedete l'ora che arrivi l'aggiornamento di Natale, lasciate un bel mi piace adesso. Vi ricordo che comunque farò un giveaway con i pet natalizi appena verranno annunciati. Fatemi sapere se ho fatto bene a scambiare due vasetti di miele con il monopattino. Mi piaceva troppo, non so, perché ogni tanto prendo queste fissazioni. E per iscrivervi al canale tappate qui sul pallino. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale, cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un buonissimo video. Ciao!